allora ok mi raccomando se vedete che non registra ditemelo insomma allora dicevamo adesso ci dedichiamo al codice e quindi facciamo come se fosse in laboratorio e andiamo ad aggiungere le funzionalità che che ci mancano ok quindi prima di tutto l'aggiornamento poi l'aggiunta e poi la cancellazione lo facciamo in quest'ordine perché ieri mi sono messo un po lì a provare ho visto che la cosa più semplice più incrementale che ci consente di perdere meno tempo ok bene allora io ho preso quanto è a disposizione su av1 wix sul git wick 12 l'ho messo ieri e la stessa roba del wick 11 dove l'abbiamo lasciata ho solo sistemato qualche così piccola cosina nella parte api quindi se si è andato a vedere sia lato client sia lato server nel dao ok c'erano forse non era nel dao nel server ok error errors eccetera insomma piccole cose che in realtà finché non gestiamo gli errori non ci servono neanche però è chiaramente sviluppando e provando le funzionalità ci sono delle cose che 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 magari è scopo che che sono sbagliate vi dica sì sì ri zoomiamo un po il codice ok così va meglio non vorrei esagerare perché poi ok ok continua benissimo quindi allora prima di mettersi a scrivere codice viene da dire accendere il cervello cioè pensare pensiamo cosa vogliamo fare allora noi abbiamo la nostra applicazione exams ne abbiamo già fatta caricare dal server vi ricordate avevamo get all exams che ho implementato apposta che caricava tutti gli esami dati diciamo da un certo studente codice nome voto e data ok quindi dovremmo intervenire sull'applicazione fare in modo di collegare le funzionalità di update ad ed elite al server per ora funzionano ma funzionano sul client no cioè queste funzioni che sono richiamate il clic sui vari bottoni in giro agiscono sullo stato e cambiano lo stato a noi non basta più vogliamo cambiare anche il serve ok allora prima di partire anche per me verifico che tutto funzioni quindi facciamo un dunque client anzi facendo i terminali li faccio tutti e due qui dentro ma fa lo stesso insomma server quindi abbiamo nodemon server js quindi prima facciamo partire il server per nostra comodità più che altro e poi facciamo partire il client npm start e teniamo tutto attivo così mano a mano proviamo se non ho sbagliato niente ok si è caricato intanto vi faccio vedere una cosa che ho fatto apposta ossia che il server ha sulla funzione get all exams list exams with name eccola che fa poi l'avevamo vista l'altra volta una joint tra due tabelle per recuperare anche il codice corso perché ci viene comodo ah no scusate non è qui ma è a livello superiore quindi list exams with name ho messo un piccolo ritardo list exams with name ecco anziché far rest json se volete punto end ho messo 7 in out rest json un secondo così abbiamo il tempo di vedere cosa succede se il server un pochettino più lento perché altrimenti non vediamo niente no di tutto quello che abbiamo detto prima il server ci mette un po a rispondere così via non vediamo mai niente questo si concretizza nel fatto che quando carichiamo l'applicazione all'inizio ci mette un attimo ad avere i dati quindi all'inizio viene renderizzata con uno stato exams che è aperta e chiusa quadro quindi non c'è niente non c'è niente nella lista e poi arrivano i dati cambia lo stato viene aggiornata la visualizzazione ok vedete sempre cosa sta succedendo e quindi che in console non ci siano cose strane e sulla rete che non ci siano anche lì cose strane e quindi c'è la chiamata exams che è quella ipi exams del server che ci dà come risposta la lista è in json di tutto ok mi ha messo la tartarughina così va beh questa è una curiosità per dire che il server ci ha messo tanto tempo a rispondere è un secondo vabbè ma l'ho fatto apposta ok ho la case disabilitata per comodità perché così non vediamo i 304 quindi quando la risposta sempre la stessa una cosa che fa express eccetera però diciamo questo sono dettagli va bene allora siamo pronti a partire partiamo da un'applicazione che funziona perché altrimenti introduciamo solo problemi su problemi ma questo lo dopo è scontato allora dicevo la prima cosa che possiamo fare è la funzionalità direi di aggiornamento perché perché abbiamo già i dati nel form di edit quindi ne cambiamo solo uno e di fatto diciamo riusciamo a fare a farla abbastanza in fretta quindi come funziona l'aggiornamento premo il bottone mi viene fuori il form io cambio qualcosa che sono 26 salvo mi viene fuori 26 perché perché l'applicazione in questo momento sta cambiando lo stato locale ma se io ricarico dal server mi verrà fuori 25 perché sul server nessuno ha scritto niente sul server c'è ancora 25 ok quindi come andiamo a fare questa modifica allora prima di tutto devo avere un api che vada a fare l'aggiornamento no quindi devo avere scusate sul server un api che supporti l'aggiornamento ma l'avete fatta col mio collega science due settimane fa no c'è la put ap exams code ok quindi va aggiornare l'informazione dell'exam e va a mettere nel db con update exam il score il code e la date e quindi update quindi fa l'impostazione di data score e il codice no perché il codice mi serve per identificare l'elemento e quindi questo è il codice sql che fa un aggiornamento di un elemento nella tabella se va tutto bene resolve mi dà questo id che in realtà non me ne faccio niente perché in questo caso il codice io ce l'ho già ed è unico se volendo posso posso andare a utilizzare però sul server io ho deciso che non lo utilizzo no do solo 200 end e non vado a prendere il valore di ritorno che sarebbe il resolve che ho fatto dall'altra parte se invece volete ma ne avete bisogno potete farlo ma sul sulla put di solito non serve perché lì di resta lo stesso se invece fatto un apposta un aggiunta magari ci serve nel nostro caso no perché abbiamo già le liste dei codici degli esami ma che so per gli esami è proprio quello di cui avete bisogno creato un nuovo scusate un film per il film creato un nuovo film vi viene dato un nuovo id e quindi lo prenderete lo portate nella vostra applicazione o restituite come json e lo portate nella vostra applicazione ok qualcuno mi aveva chiesto in laboratorio così approfittiamo anche per ripassare un po tutto c'è il codice passato nell'api quindi nell'url e c'è il codice passato nel body ok va bene va lo stesso ok avremmo potuto toglierlo da sopra passarlo solo nel body avremmo potuto lasciarlo solo nell'url e toglierlo dal body sì l'importante che scegliamo un modo che funzioni usiamo l'uno o l'altro diciamo è solo diciamo un'informazione duplicata e magari anche solo per comodità perché abbiamo già l'oggetto pronto piuttosto che fare un oggetto in cui dobbiamo andare a togliere un id per metterlo sull'url eccetera lasciamolo anche lì non succede niente un'informazione piccola non è un problema ok va bene quindi se avete altri dubbi domande mentre sviluppiamo il codice mi raccomando chiedete allora abbiamo l'api abbiamo la possibilità di chiamarla sul client quindi adesso sono su api.js sul client avrò un api che ho già scritto per comodità facendo copia in colla dal resto e quindi niente di particolare un exams slash exam code qui rispetto all'altra volta ho usato un oggetto url ma sennò ho fatto una stringa non c'è niente di speciale alla fine viene sempre fuori solo una stringa ok quindi sarà http localhost 3001 barra ipi barri exams barra 01 tx non so cos'è ecco ricordatevi che nelle cose che non sono get dobbiamo specificare uno che non vogliamo il metodo get ma un altro metodo quindi ci servono un secondo parametro alla fetch con l'oggetto che dice qual è il metodo put quali sono gli headers è che è obbligatorio specificare quando abbiamo un certo formato di dati quindi content type json come facevamo quando avete fatto i test avete fatto col rec bin perché usate chrome rest client usate firefox insomma qualsi programmi che vi consente di fare i test col server bisogna mettere header content type application json però fatto una volta fatto per tutti è copia in colla e via body json stringify quindi trasformiamo in json l'oggetto che dobbiamo spedire al server ok e lato server ce lo ritroveremo già direttamente come oggetto e quindi nel server abbiamo rec.body ci viene fuori direttamente come oggetto javascript perché perché se noi abbiamo messo content type application json e usiamo il middleware express json il middleware capisce che il contenuto json ce lo trasforma già cioè ce lo persifiche ce lo metto a disposizione come oggetto javascript ok questo è il motivo per cui tutto funziona benissimo api ok fetch then catch ok adesso qui io vi ho messo una cosa abbastanza come dire macchinosa se volete che potete anche semplicemente copiare incollare nei vostri esercizi diciamo che prevede un po di casi inizialmente potete anche prevedere diciamo pochi casi cioè respons ok risolve decidete cosa passare nel nostro caso non serve passare niente ci basta sapere che la promise è andata in stato full field quindi andremo nel dene non nel catch e sappiamo che ha avuto successo se aveste l'id probabilmente dovete passare l'id se avete altre informazioni dovete passare altre informazioni al chiamante allora nel resolve mettete ciò che serve ok un oggetto un numero qualsiasi cosa else vabbè deciderete cosa fare se dovete fare un reject fatto un reject con quello che ritenete ok una stringa un oggetto che continua una string eccetera eccetera questo sta poi a voi deciderlo ma diciamo una gestione dell'errore ci pensiamo poi ok diciamo che noi interessa che una volta che tutto è andato bene facciamo response cioè resolve e via ok benissimo quindi abbiamo l'update exam che dobbiamo solo usare quindi siamo in app abbiamo già tutto ci viene passato un oggetto exam ok quindi cosa andiamo a fare allora proviamo usare l'approccio che dicevamo prima cioè aggiorniamo localmente nell'applicazione poi attendiamo la risposta del server e ricarichiamo la lista dal server la lista degli esami ok quindi un pezzo già fatto l'aggiornamento locale già lì è quello lì che vediamo nel codice l'abbiamo già fatto ok poi magari lo sistemiamo però l'abbiamo già fatto a questo punto facciamo api cos'era update exam e gli dobbiamo dire che cosa aggiorniamo cioè dare l'informazione quindi è già tutto predisposto per prendere l'oggetto exam e poi sulla base di quello che ci risponde il server decidiamo che cosa fare ten quindi la promise full field ci porta nel den passiamo una call back che cosa farà ecco questo dobbiamo pensarci un attimo ok quindi cosa facciamo per sé dobbiamo scatenare il caricamento dell'informazione dal server ok quindi den potremmo fare api get all exams cos'è eccetera e di nuovo den set exams e così via ok quindi questa è una possibilità però in questo caso è molto comune diciamo in tutto il resto dell'applicazione perché anche quando faremo l'add abbiamo questo anche quando faremo la del it avremo questo perché dopo che abbiamo fatto l'operazione sul server vogliamo andare ad aggiornare la lista degli esami quindi ricaricare dal server per cui sarebbe bene uno non duplicare il codice quantomeno fare una funzione se proprio vogliamo mettere una funzione una funzione appunto per ricaricare dal server e va bene ok se no adesso cerchiamo di capire che cosa ha senso fare lasciatemelo lasciare un attimo lì catch se c'è stato un errore cosa ne facciamo mi raccomando scrivete sempre questi catch come minimo con un console log qualcosa di simile perché almeno in fase di debug riuscite a capirci qualcosa perché se cominciate a ignorare tutti gli errori poi finisce che non non ci capite più nulla io vi consiglio di centralizzare un po' la gestione dell'errore che è una cosa anche ben fatta in vista dell'esame possiamo mettere console log ma poi ci riempiamo di console log preferirei evitare facciamo che so handle error tanto alla fine lì dentro facciamo sempre la stessa cosa così poi la volta che ci serve possiamo anche gestire l'errore diversamente quindi la handle error la mettiamo mettiamo un po' più su function per ora facciamo un console log lo sono centralizzate perché per dopo mi serve per console log ok che in realtà non ho invitato niente sono cambiato messo il nome di una funzione ok torniamo al punto di nostro interesse salvato però non compilerà perché gli manca un pezzetto come facciamo a dire ricarica i dati vi ho detto prima o facciamo una funzione e quindi un po' come abbiamo fatto qui dentro API get all exams then catch eccetera eccetera potremmo prenderla tirarla fuori farla diventare una funzione ogni volta richiamiamo questa oppure abbiamo imparato la use effect se nella use effect mettiamo una qualche dipendenza da un valore che noi impostiamo nel momento in cui dobbiamo andare a caricare ricaricare l'informazione riusciamo con la stessa use effect a far diciamo caricare l'informazione quando ne abbiamo bisogno evitiamo di duplicare il codice e diciamo probabilmente l'approccio migliore anche per le vostre applicazioni nel momento in cui volete seguire quella filosofia che dicevamo prima aggiorniamo i dati quindi carichiamo dal server tutte le volte che facciamo delle operazioni quindi abbiamo occasione diciamo così di parlare col server allora per far ciò io vi consiglio di mettere uno stato addizionale di servizio quindi io lo chiamerei gli diamo un nome poi voi se vi trovate bene con un altro mettete pure un altro però io direi dirty cioè sporco una variabile boolean quindi set dirty qui non c'è da pensare come chiamarla funzione mi raccomando seguite sempre questa convenzione use state inizialmente adesso poi ci pensiamo io metto false ma dopo ragioniamo cosa ha senso mettere e lo mettiamo qui dentro ok quindi nella use effect del get all exams ho messo come indipendenza dirty cioè un flag che se io faccio cambiare mi ricarica la lista degli esami del server ok allora nella use effect all'inizio viene chiamata comunque la callback quindi indipendentemente dal valore di dirty la callback verrà chiamata perché al mount la use effect chiama la callback punto quindi qui non c'è discussione discussione e poi e poi verrà chiamato solamente nel momento in cui dirty cambia ok allora diciamo che nella mia testa adesso ragiono in questa maniera dico ok i dati lato client nel momento in cui vado a fare delle operazioni sul server li considero da aggiornare quindi diciamo che sono sporchi per questo scritto dirty se vi piace di più possiamo dire to be updated non lo so qualcosa di simile come nome della variabile quindi nel momento in cui io decido che i dati sulla mia applicazione client sono sporchi quindi voglio andare a ricaricarli dal server quindi assumo che la variabile dirty sia false in condizioni normali nel momento in cui voglio ricaricare i dati dal server ci faccio cambiare il valore e la metto a true ok una volta che ho caricato i dati dal server poi la rimetterò a false perché li ho appena caricati aspetto che qualcun altro mi rimetta il true per farli ricaricare ok allora adesso ho trovato cosa scrivere nel den io faccio set dirty true quindi dico occhio io ho fatto l'operazione di update mi è arrivata la conferma dal server bene qualsiasi cosa abbia fatto vado a caricare i dati di nuovo dal server per avere una lista aggiornata con la filosofia che avevamo sulle slide quindi le slide ci dicevano di fare questa operazione ultimo refresh il mark non l'abbiamo ancora fatto adesso lo facciamo l'update l'abbiamo fatto nel senso che abbiamo chiamato l'update exam verso il server il refresh lo stiamo facendo poi come l'ultima cosa faremo il mark allora stiamo registrando sì bene ok set dirty true va bene allora ragionando così però devo ancora pensare a dove metto poi il false perché se mi resta true quella poi non cambia la prossima volta è un flag devo farlo girare sempre tra true e false ok dove vado a mettere il false quindi facciamo vabbè l'avevo fatto col den allora sicuramente nel den ci saranno più cose da fare quindi mi porto un po' avanti set exams è una di quelle ok però faccio anche set dirty false ok li ho appena caricati li ho appena impostati nello mio stato quindi non c'è più niente di sporco non c'è più niente da caricare ho appena finito di caricarli se qualcun altro poi farà delle altre operazioni lo farò ok va bene oh c'è questo loading vabbè l'ho messo più giù perché avevo già messo un componente che per ora non uso ma niente tutto bene ok e you state diciamo che vabbè adesso la lascia forse poi ci penso poi ricordiamoci di cambiarlo ma per ora tanto all'inizio viene comunque chiamata quindi qualsiasi valore abbia non c'è problema c'è una domanda benissimo così come fa a non andare in loop perché dovrebbe andare in loop sì sì però se il valore non è cambiato rispetto al giro prima il loop si ferma quindi se prima è true io la metto a false se nessun altro me la rimette a true secondo giro viene eseguita la callback la rimette a false ma forse è uguale a false rispetto a prima e si ferma ok adesso la vediamo la aggiustiamo eh questa è un'osservazione corretta perché ci provoca due volte il caricamento dal server ok forse era quello che vuole dire no sì ok lo proviamo adesso vediamo cosa succede eh e aggiustiamo anche questa cosa però almeno non abbiamo introdotto il loop come che è la cosa peggiore perché vuol dire che l'applicazione poi non funziona no allora eh cos'è ok ho salvato tutto eh quindi adesso carico e va bene poi ecco apro sotto così intanto vediamo cosa succede sulla rete dovete avere il tab di rete aperto perché se no non memorizza cosa capita eh allora edit facciamo 26 ci alziamo di un punto e faccio salva ok mi è venuto fuori 26 ma questo è scontato che mi è venuto fuori 26 perché l'ho fatto io la prima cosa che ho fatto è 7 exams con la modifica era quello che facciamo prima senza serve ok poi è successa trascuriamo un attimo la option poi ve lo dico cos'è poi è successa la put quella che abbiamo inserito di nuovo di nuova ap exams 0 2 eccetera col codice con la richiesta dell'oggetto json quello json string file con la risposta che non c'è perché perché noi l'atto serve abbia scritto res 200 basta non abbiamo dato nessuna informazione va bene così tanto abbiamo il codice dell'http ci va bene così cos'è successo è successo che ho messo il dirty a true e quindi è avvenuto il caricamento di exam ok quindi mi ha dato la lista è venuto fuori il 26 quindi è giusto ok infatti è rimasto il 26 non è che mi è cambiato se non funzionava mi tornava il 25 ma perché è avvenuto il caricamento due volte qui non siamo all'avvio che vi ho detto per debugger act ci chiama due volte la callback eccetera ok qui è proprio una questione nostra ed esattamente quello che stavamo dicendo prima con il vostro collega cioè lui si chiedeva perché non va in loop in realtà c'è il loop perché la variabile non cambia ma c'è un giro di troppo perché io ho fatto che avevo dirty ce l'avevo a false l'ho cambiato true e allora la use effect mi ha fatto il caricamento del server e mi ha messo la dirty false però era true prima quindi al secondo giro la use effect dice da true è diventato false ti richiamo la callback la callback la rimette false cioè il valore non è cambiato allora si è fermato perché il valore è false uguale a false ok non è bello però giustamente come osservavano i vostri due colleghi allora prima di tutto facciamo che if dirty allora carichiamo API eccetera perché se no non ha senso no o meglio carico due volte la stessa informazione inutile no quindi if dirty va bene si ok se non è dirty mi richiamerà la callback ma evito almeno di caricar l'informazione dal server sul fatto che mi richiami la callback non posso farci nulla però evitare di fare informazioni nella callback posso farlo perché io scrivo l'if e decido io che operazioni fare nella callback ok per far funzionare il tutto allora visto che ho messo if dirty all'avvio la callback viene chiamata ma per fare in modo che entro nell'if dovrò mettere true ok come stato iniziale se no all'avvio non mi si carica perché l'ho impedito io con un if ok quindi salvo riproviamo quindi all'avvio ok c'è l'exam mi si carica è doppio per il problema che dicevamo del debug poi action 27 più andiamo avanti più miglioro oppla save 27 avviene la put facciamo così no come si è fatto questa roba facciamo così ok avviene la put una sola volta e poi avviene la get una sola volta questa volta è andato tutto bene quindi tutto bene o l'ho fatta eseguire una sola volta la callback è sempre chiamata due volte su quella non posso farci niente ma sull'operazione che faccio nella callback faccio io che vengono chiamate solamente cioè chiamo il server solamente una volta ultima cosa questa option purtroppo me la tengo non è mia e non posso farci niente sono le richieste pre-flight del course se usiamo il course ce le teniamo le fa automaticamente il browser sono invisibili per l'applicazione non è un problema nostro ok le vedrete lì e ve le tenete però non ci danno alcun fastidio sono gestiti automaticamente dal browser ok si fanno per una serie di motivi che però non vogliamo non vogliamo indagare perché ci portano troppo distante da quello che effettivamente ci interessa e niente e chi è curioso poi glielo racconto se è curioso o lo cerca in rete niente di così segreto ok bene abbiamo quasi l'update a posto cosa ci manca ci manca far capire all'utente che c'è un'operazione che è in corso ok perché noi abbiamo fatto l'aggiornamento immediatamente il 27 è venuto fuori subito riproviamo pure no metto 28 faccio save e subito lì 28 ok ma non ho ancora la risposta dal server allora marchiamo in qualche maniera questa informazione come temporanea ok come faccio questo dipende molto dalla vostra applicazione potrei mettere un non so un pezzo di testa in più nel nome dell'esame un pezzo di testa in più nel voto quello che volete io tanto per far pratica qui facciamo così coloriamo la riga della tabella così facciamo un po' di pratica però non ci perdiamo troppo tempo dunque allora come facciamo a colorare la riga della tabella andiamo un po' non fatemi perdere tempo anche a me perché poi queste sono diciamo cose non così interessanti programmazione spicciola diciamo così abbiamo la nostra exam row che ha il tr consentitemi di copiare un pochettino dal codice che avevo già preparato exam table exam row quindi andiamo facciamo così perché così gestiamo anche poi gli altri casi con degli altri colori quindi semplicemente mi passo una proprietà addizionale dell'esame che mi dice se quell'esame va colorato o no e come quindi io dico che se aggiungo la proprietà status all'esame che si chiama added metterò un class uguale table success sulla riga della tabella altrimenti danger altrimenti war che sono tre colori diversi di bootstrap ok quindi niente di particolare vediamo un po' class name exam ok quindi finora non succede niente nel senso è solo una proprietà addizionale di exam se non c'è default niente null non mi aggiunge nessuna classe ok se adesso in app io vado a modificare l'update e nell'update andiamo a impostare questa proprietà ottengo il colore temporaneamente perché poi quando arrivano i dati del server questa proprietà non c'è più no allora questa proprietà la impostiamo in questa maniera exam quindi qui facciamo la copia dell'exam vi ricordate che quando aggiorniamo in un array un oggetto per react nello stato dobbiamo cambiare il riferimento all'oggetto cioè dobbiamo creare un nuovo oggetto quindi c'è object assign oggetto vuoto copiamo tutte le proprietà di exam che sono quelle nuove e poi ci possiamo anche mettere un oggetto status dunque come l'abbiamo chiamata updated ok quindi cosa ho fatto qui ho creato un nuovo oggetto ci ho messo dentro le nuove proprietà di exam e in più l'ultimo parametro fa sì che ci aggiungiamo un nuovo oggetto cioè facciamo il merge con il nuovo oggetto aggiungendo la proprietà status con un certo valore una stringa che io ho deciso di chiamare updated vediamo cosa succede quindi allora ricarichiamo l'applicazione va bene carica ok adesso faccio 29 salva attenzione al colore della riga vedete che è colorata che poi sparisce cosa è successo qualcuno era distratto noi 30 poi finiamo abbiamo 31 colorata poi sparisce cosa è successo è successo che prima lo stato exam ha una lista in cui c'è l'elemento di quell'esame che ha una proprietà in più che è status updated che abbiamo messo noi poi poi dopo che l'update ha ritornato successo ho messo set dirty true il set dirty ha fatto caricare get all exams il set exams mi ha ripristinato la lista degli esami così come la vede il server e la proprietà status è sparita e non c'è più e quindi il colore è andato via ok questo è un esempio di come fare organizzare bene queste operazioni ok ovviamente tutto funziona anche senza colorare la riga ok è solo un feedback visivo che diamo all'utilizzatore ok solo per modo di dire no però è un feedback che diamo all'utilizzatore avremmo potuto far sparire tutto e dire attendi che l'operazione abbia successo è un'altra opzione non è tanto bella perché insomma ridisegniamo tutto quanto dobbiamo trovare un qualcosa che sia ragionevole nella nostra applicazione dovete pensarci un po' voi nella tabella ci veniva bene il colore va bene ok bene abbiamo fatto l'aggiornamento è finito perché abbiamo messo il meglio di quello che possiamo fare in questo momento aggiorniamo il server intanto marchiamo l'elemento temporaneo e poi ricarichiamo tutto fine ok magari cos'è 1049 sì andiamo sì andiamo sull'aggiunta che è la cosa che ci tiene un po' più di tempo quindi faccio l'aggiunta prima della cancellazione perché se poi testo il delete devo andare a repressionare il tb il delete di per sé non è tanto difficile no però facciamo l'aggiunta che comunque è interessante allora l'aggiunta pone alcuni problemi perché perché nel momento in cui aggiungo mi viene chiesto codice e nome corso poi c'è il voto e la data va bene però qual è il problema il problema è che io quando carico le informazioni dal server io assumo che sul server ci sia due tabelle le abbiamo le abbiamo si può aprire open db sì sono due tabelle io ho la tabella corsi non mi viene fuori il contenuto vabbè mi viene fuori la struttura corsi e poi esami no se non c'è il codice corso che io metto che succede devo ragionare prima di tutto su come funziona la mia applicazione ok io sin dall'inizio del corso l'ho organizzata in maniera che ci fossero solo gli esami poi però diciamo che abbiamo fornito un db in cui c'erano anche i corsi voi all'esame avrete un db in cui metterete voi tre quattro cinque tabelle a seconda di quello che vi serve per l'applicazione dovete un attimo ragionare su come far funzionare le tabelle cioè aggiungete un qualche elemento in più allora o aggiungo il corso e poi aggiungo anche il codice corso con il nome nell'altra tabella oppure come in questo caso ho già la tabella con la lista dei corsi allora vuol dire che in fase di aggiunta dovresti aggiungere solo corsi che esistono sul db ok quindi devo prima di tutto pormi questi problemi una volta che ho risolto nella mia testa come funziona l'applicazione decido come andare avanti ok quindi io in questo momento decido che quando aggiungo un corso adesso cambio l'interfaccia perché perché altrimenti dovrei rifare il db il db non ha il codice corso tenuto insieme col nome del corso infatti avevo fatto una join per caricarli no allora ho lavorato come in laboratorio in laboratorio avete solo la tabella film per cui non si pone il problema avete un'unica tabella poi c'è gli utenti ma li usiamo poi dopo oppure se avete più tabelle dovete cercare di capire come organizzare tutto al meglio io in questo momento anche per fare un po' di pratica con i form e tutto vi faccio vedere diciamo un form modificato modifichiamo l'interfaccia perché riteniamo che questa interfaccia non vada più bene per quello che dobbiamo fare ok ora questa cosa l'esame diciamo l'esame dicevo prima con qualcuno che mi ha chiesto l'interfaccia l'interfaccia diciamo a vostra discrezione posto che diciamo sia ragionevole e soddisfi i requisiti del testo del progetto però se volete decidere di mettere come facciamo noi adesso una lista di codici di esame con i nomi piuttosto che una casella del testo libero eccetera dovete ragionare voi su cosa meglio fare dato come volete sviluppare l'applicazione e dati i requisiti del testo ok noi tendenzialmente lasciamo abbastanza libertà in questo contesto a meno che non ci siano cose proprio chiaramente specificate nel testo ok l'unica cosa che chiediamo è che ci sia un po' di ragionevolezza no nel senso che appunto se c'è una lista di codici fissi che dovete utilizzare non si può lasciare una casella di testo libera no perché perché poi allora da qualche parte dovresti dirmi quali sono i codici che posso usare se no prima che io sappia quali sono i codici cioè come faccio a sapere quali sono i codici dovrei andarmeli a cercare da qualche altra parte eccetera questa non è un'interfaccia tanto ragionevole no un po' come quando non so penso fate il piano carriera cosa che fate anche potete mettere il codice corso che vi pare dovete andarlo a selezionare tra gli esistenti stessa cosa qui nella nostra applicazione ragioniamo in questa maniera per cui questa interfaccia ci andava bene fino ad oggi che giocavamo così localmente ma nel momento in cui andiamo a lavorare col DB dobbiamo riorganizzare un pochettino questa interfaccia quindi io prima cosa allora devo ovviamente non è detto che voi diciamo provate a fare queste modifiche vi viene subito tutto magari dite ok come ho fatto io ieri tra l'altro stavo provando un po' le cose per oggi e ho detto vabbè dai aggiungiamo un codice corso pazienza non esiste va bene codice corso nome ok faccio carico e non mi viene fuori non mi viene fuori perché perché ho la join sul lato server no la join non trova il codice corso nella tabella corsi e non me la carica più allora che faccio faccio sparire la tabella corsi ma mi devo portare il codice corso nella tabella esami quindi devo cambiare il DB oppure cambio l'interfaccia e carico però i corsi a questo punto e li metto in una lista a disposizione quando creo un nuovo esame ho scelto questa seconda opzione perché è un po' più interessante ok perché così carichiamo un secondo una seconda lista del server e così cambiamo un po' il form e intanto vediamo appunto qualcosina di diverso sul form ok quindi ho fatto tutti questi ragionamenti ci sono i ragionamenti che poi dovete fare per conto vostro per sviluppare il progetto in laboratorio vi aiutiamo all'esame dovete provare a farli per conto vostro ok allora carichiamo carichiamo i corsi per fortuna abbiamo già l'API pronta c'era get all courses che semplicemente va a prendere la tabella corsi allora dove la mettiamo non è interessa qui dove la mettiamo allora è un'altra lista un'altra lista di qualcosa caricato dal server finisce per forza in uno stato ok quindi la roba che carichiamo dal server finisce in uno stato non c'è alternativa la questione dove mettiamo lo stato lo mettiamo in app o no secondo me sì perché perché poi ne abbiamo bisogno in giro per l'applicazione poi se ritenete che si possa spostare dopo magari lo spostiamo però diciamo app non è mai sbagliato perché app rende visibile lo stato tutta l'applicazione tramite il passaggio come properties se ne abbiamo bisogno ok quindi cost courses set courses use state e di nuovo una lista e quindi sarà vuoto ok ok poi come carichiamo i dati dal server li mettiamo quindi abbiamo un api get get all courses lo mettiamo qui dentro la mettiamo in un'altra use effect cosa fareste voi non è che una soluzione sia tanto differente dall'altra dobbiamo sempre ragionare allora voglio rinfrescare la lista di tutti i corsi ogni volta che faccio delle operazioni sì ok allora ha senso metterla dentro la use effect che carica gli esami ritengo che la lista dei corsi non cambi mai dopo che ho aperto la mia applicazione allora magari la carichiamo solo all'inizio ok e allora è una use effect che parte in un momento diverso non avviare più il dirty ok si attiva solo all'inizio quindi deve essere una use effect separata però è una mia decisione ritengo che i corsi siano qualcosa che non cambia una volta che li ho caricati ok proviamo questa seconda opzione non tanto perché ritengo questo ma perché così proviamo le diverse use effect e facciamo tante prove un po' varie quindi callback api get all courses punto then allora courses diciamo sì courses ma chiamiamolo courses freccia set courses courses punto catch error freccia handle error error ok mi raccomando virgola aperta chiusa quadra zoomato ok ok niente di nuovo è la use effect che abbiamo scritto l'altra volta ok solo che adesso ho caricato anche i corsi ok corsi se va bene non li ho usati perché devo ancora usarli però intanto potete già provare l'applicazione quindi 3000 ovviamente non si vede niente di diverso dal punto di vista visuale ma vedete qui che c'è il caricamento della get courses che purtroppo avviene due volte per la storia del debug però c'è ok quindi almeno quello funziona bene a questo punto andiamo a allora abbiamo i corsi lì passiamo all'elemento di forma quindi exam courses 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 ok su entrambe le route perché tanto boh sì quindi exam form io gli passo una nuova property cos'è sto c ho schiacciato un carattere strano va bene ok a questo punto nel form devo andare a riorganizzare il form no abbiamo detto che il form non avrà più il codice corso del nome del corso ok allora li lascio un attimo lì perché magari mi serve copiare e vado a creare un nuovo elemento e crea un nuovo elemento di tipo menu a tendina no era exam form ok vado a prendere un po' il codice per evitare di dovermi andare a cercare le cose non è che tutto a memoria me lo ricordo però visto che il tempo è tiranno form group e ne creiamo uno nuovo form group ora che facciamo il copy and colla perché poi diventa macchinoso da scrivere exam form form group e poi facciamo questo una casella che si chiama course perché no eh dai sto compiuto niente vabbè il mouse non mi aiuta va bene adesso ci guardiamo al codice form label quindi label course control select cioè faccio un controllo html di tipo select che è la menu a tendina ok value è un controllo di tipo controlled eh quindi allo stato in react quindi ci sarà sempre value uguale qualcosa on change che imposta il value quindi code on change set code event target value vabbè disable poi ci ragioniamo sopra perché ci serve per l'edit ma dopo e le opzioni che metto sono option una è vuota value vuoto choose ok quindi è un menu in cui non metto niente di preselezionato non è un edit in cui ne ho già un corso selezionato e poi e poi c'è un array ok c'è un array facciamo più sposto c'è un array in cui prendo props courses ok e ci metto map option key code value c code c name nel nella lista dei corsi ho un oggetto che contiene codice nome e crediti ok i crediti non mi interessano c'è punto code punto name ok io dentro mi tengo il codice perché è unico e il value scusate il name che mostro nella lista e il nome del corso ok avrei potuto scrivere ccode spazio cinema se volevo mettere anche il codice ho deciso di mettere il nome ok va bene di per sé questo funziona solo un piccolo problema nel senso che mi mostra tutti i i corsi quindi se voglio ma è consigliabile evitare dimostrare i corsi che esistono già perché perché poi mi fanno un inserimento doppio lato db magari mi danno un errore e così via ok se ho messo la colonna codice corso come chiave o come unica nel db adesso onestamente non mi ricordo se sia stato messo unico o no forse sì dopo se c'è bisogno la proviamo ma qui voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che tutto quello che abbiamo imparato su map filter find eccetera questi metodi funzionali in questo momento vi servono perché vedete che con due righe abbiamo risolto il nostro problema abbiamo estratto con la map dalla lista ciò che ci serve il codice il nome creato l'elemento del menu a tendino e con la filter abbiamo tolto tutti i corsi che non rispettano la condizione e la condizione qual è? è la callback che ci ritorna true e la callback va a cercare tutti gli elementi cioè va a cercare se in props exams quindi nella lista degli esami che mi sono fatto passare da app che già mi facevo passare per altri motivi ce n'è uno che ha il codice uguale al codice del corso corrente se c'è io dico non includerlo se non c'è dico includerlo per questo ho messo il note davanti al valore di ritorno ok? quindi è semplicemente un filtraggio che esclude tutti quelli che sono nella lista degli esami ok? ok quindi ho code è uno stato vado sopra vado a sistemare gli stati perché io avevo quattro stati ho il codice il nome lo score e il date il nome non c'è più ok? lo tiro via dovrebbe non esserci più no è ancora da qualche parte allora devo ancora tirarlo via 27 ah sì c'è nella validazione adesso lo faccio adesso aggiusto la validazione ok? però il nome non c'è più perché il nome è già nella lista dei corsi che visualizzo ok? non posso più impostarlo bene aggiustiamo la validazione ovviamente la validazione qui aveva faceva delle assunzioni che l'utente inserisce il codice eccetera non ci siano spazi non tutto quello che c'eravamo sognati per provare un po' di validazione quindi il codice allora cosa devo verificare? in realtà devo verificare solo che sia stato selezionato vi ricordate che ho messo sotto che c'era il caso di default era che il codice e dai questo mouse non funziona il codice era di default vuoto value stringa vuota ok? quindi se uno non mi seleziona un codice corso non ho niente da aggiungere non è inutile che mando il form al server ok? quindi if not code quindi è una stringa vuota selezionare un corso ok? il nome del corso deve contenere eccetera questa roba qui non mi serve più non esiste più il nome del corso ok? il nome del corso è già predeterminato non è non si può decidere da parte dell'utente la data è ancora a posto ok? c'è ancora qui quindi name eccetera eccetera quindi io questo lo cancello e scrivo qualcosa di simile const new exam uguale allora code code ok? code oramai non c'è da fare tre altre operazioni code è stabilito da me dalla lista del menu a tendina name name perché c'era name ok? devo calcolarlo poi const name uguale adesso lo facciamo score score e date date ok? quindi questi sono gli stati il nome se lo voglio devo trovarmelo props courses find e metto c ecco è il corso metto una callback e mi ritorna true quando l'ho trovato quindi c code uguale code ok? e basta ah no questo è il corso poi metto punto name ovviamente metto punto name perché sono sicuro che lo troverà perché io la lista ce l'ho e i corsi li ho decisi io ok? se no una scrittura così non la mettete perché? perché se l'utente fa qualcosa poi non è nella lista dei corsi questo vi da and find e vi blocca l'applicazione ok? va bene in realtà adesso pensandoci non mi ricordo neanche più se effettivamente il nome serve o no probabilmente no però vabbè diciamo che per rimanere come era prima senza dover ragionarci troppo tanto così abbiamo fatto pratico col find c'è ancora un name da qualche parte ah sì ecco ovviamente questi primi due controlli li devo buttare via solo che se uso il mouse sarà meglio che lo stacchi mi si si rompe tutto ok allora butto via questi ok e salvo speriamo di non aver pacioccato niente che non va ok dovrebbe andare allora riprovo l'applicazione ci metto un attimo carica add ok sono sparite le due caselle codice nome ed è venuto fuori un menu a tendina in cui ho choose che è quell'opzione di default iniziale e in cui trovo i corsi ok che non sono ancora inclusi nella mia lista perché così ho scritto con il codice ok allora prima di tutto proviamo che se non seleziono niente funzioni ancora ok quindi lascio choose faccio save mi ferma l'handler dell'on submit con quell'opzione commesso if not code e io avevo anche un modo per far vedere un messaggio adesso qui dipende da cosa volete fare però insomma da qualche parte fate vedere cosa c'è che non va ok chiudi allora selezioniamo un corso database 31 eh save vediamo ok no ok ho selezionato vediamo che è successo no ok niente nel senso che cosa mi ha messo formation system security no chissà che ciò che ha fatto ci sarà qualcosa che non va computer network technologies no allora c'è qualcosa che non va nel codice ah che quindi code code allora new exam code 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 name name score date sì code ah uguale disgraziato me lo assegnava anziché fare il test ok quindi ovviamente veniva fuori una cosa diversa ok allora ricarico l'applicazione ripartiamo da quello che c'è sul server ma allora vediamo se il database mi danno sto 30 lode ok va bene bene solo che qui di nuovo è solo client ok dobbiamo aggiungere la comunicazione col server dove andiamo andiamo in app in app adesso abbiamo la ad exam da sistemare ad exam vediamo solo che tutto funzioni sì ad exam il principio è simile no quindi coloriamo e facciamo l'operazione perché una volta che abbiamo stabilito il meccanismo basta tenerci al meccanismo no quindi ad exam allora come facciamo a colorare l'esame dobbiamo aggiungere una proprietà come facciamo ad aggiungere una proprietà possiamo tranquillamente farlo qui exam status no era sì status added ok e ci metto add perché dall'altra parte avevo scritto added e veniva fuori non so più verde qualcosa di sì ok poi faccio il mio set stato e poi api ad exam exam giusto sì punto then callback 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 ritorna qualcosa no posso andarlo a vedere eh per non perdere troppo tempo visto che il tempo stringe non andiamo a vedere però poi per quanto vostro andate a vedere e poi set dirty ricarichiamo dal server ok è andato tutto bene ricarica set dirty true ok punto catch error handle error error ok finito ok tutto qui faccio una volta stabilito il meccanismo poi è abbastanza semplice far funzionare tutto quindi ricarico il server faccio add data science 31 verde che poi sparisce ok quindi c'è la modifica dello stato locale poi c'è il set dirty quando la modifica ha avuto successo e carico ricarico dal server che mi fa sparire il verde perché non c'è più la proprietà status ok adesso questo è permanente sul server e l'ho aggiunto sul server se io ricarico adesso me ne spuntano tre non prima non più come prima due ok perché perché sono nel db del server ok benissimo facciamo ancora la delete la delete è abbastanza semplice lineare così poi abbiamo qualche diciamo nella delete no c'è una domanda no allora nella delete facciamo la stessa cosa solo che la delete essendo semplice ci richiede solo di modificare la funzione delete exam perché era il bottoncino qui già facciamo set exam togliamo l'esame che non non vogliamo quindi quando uguale a code non lo recuperiamo diciamo qui dobbiamo cambiare un po' il codice perché vogliamo in realtà tenerlo ma settargli uno status ok poi ci pensa il server a tirarlo via quando noi facciamo la get exam manda al server ok quindi qui in realtà lo facciamo sparire con la filter ma non voglio più la filter quindi diciamo che commento set exams quindi exams quindi se non voglio far sparire niente voglio modificare map mi restituisce un array diverso che è quello che mi serve per settare lo stato e a questo punto diciamo se e e code uguale uguale a code che passiamo come parametro allora allora se è uguale vuol dire che devo fare la modifica ok adesso ci mettiamo quello che è se no resta uguale ok la modifica è un nuovo oggetto in cui ci mettiamo dentro tanto per cambiare possiamo fare object assign eccetera è come prima tanto per cambiare per fare un po' di pratica ricordarci come funziona javascript eccetera facciamo così spread e ok e poi ci mettiamo status deleted ok e ci lo fa venire poi fuori rosso potevo fare object assign aperta chiusa graffa virgola e virgola status graffa status delete come ho fatto prima come ho fatto qui sotto cambio un po' ogni tanto per perché così come dire facciamo pratica un po' con tutti i tipi di course di javascript diciamo di sintasi e poi ovviamente devo fare la modifica quindi delete exam cosa prende il delete exam il codice ok la funzione nell'api ho scritto che prende il codice ok fate attenzione se passate l'oggetto il codice eccetera perché chiaramente poi non funziona se se vi sbagliate then callback che non ritorna niente si set dirty true punto catch error ok quindi fine ok fine vediamo se funziona allora ricarico non ce ne sarebbe bisogno vabbè comunque ricarichiamo no porta male cancellare web applicare cancelliamo computer architectures ok rosso sparito ricaricato dal server ricarico dal server e ci sono solo più due esami ok quindi ha funzionato anche lato server ok e poi appunto potete provarlo come come volete e così via ok aggiustiamo quindi abbiamo le tre operazioni implementate ok adesso vediamo di rifinire un po' il codice allora uno vi ho messo questo componente loading che in realtà non fa niente di particolare ma avete visto che all'inizio c'è la lista vuota allora come facciamo a farlo funzionare ok beh di solito questi componenti loading sono attivati da uno stato ok quindi ci serve uno stato di servizio anche qui non può essere il dirty perché il dirty ci serve durante il funzionamento dell'applicazione per dire di ricaricare dal server ok ha un altro significato eh vabbè potremmo magari in qualche maniera adattarlo però io preferisco in questo momento non farlo ok perché abbiamo già introdotto una cosa su cui dovete pensare è meglio pensarci separatamente ok diciamo cost l'ho chiamato com'è che l'ho chiamato initial loading eh loading set initial loading use state eh allora eh all'inizio è true ok e poi lo metterò a forza quando ho caricato tutto ok allora se all'inizio è true io vorrei eh diciamo che eh lo metto qua nelle root eh faccio una cosa un po' grezza perdonatemi però eh diciamo facciamo così loading no anzi scusate graffa initial loading punto interrogativo loading loading altrimenti eh cosa è che sta facendo lì ah no quello era un'erome no mi sono confuso in realtà non è qui che dobbiamo farlo perché qui qui in realtà compare su tutte le applicazioni ma dobbiamo farlo qui dentro quindi all'inizio partiamo su slash è lì che avviene il caricamento no è lì che volevamo mettere volevo metterlo perlomeno allora quindi in realtà facciamo così andiamo a capo non si capisce più niente quindi initial loading eh loading e basta sì quindi possiamo direttamente chiuderlo altrimenti due punti c'è tutto il resto ok quindi chiudiamo una graffa giusto loading ah beh potevo scriverlo direttamente così sì è una graffa di troppo sennò sembra un oggetto protesta perché ritiene che sia un oggetto eh quindi non si può accedere con le graffe format selection ok in realtà rutto poteva anche stare qua ok allora ehm initial loading viene fuori loading ok se lo lasciamo così ci viene fuori così e rimane bloccato perché nessuno gli mette il false ok allora dove mettiamo il false il false lo mettiamo una volta che è terminato il caricamento ok come facciamo a decidere quando è terminato il caricamento dobbiamo capire quando tutto è terminato quindi ho caricato il corso e ho caricato gli esami ok in realtà i corsi non ci servono sulla visualizzazione iniziale però ragioniamo in un'ottica un po' più ampia mettiamo che questi corsi ci servissero nella visualizzazione iniziale ok nella vostra applicazione all'esame probabilmente dovete caricare due o tre cose dalle tabelle non ce ne sarà una sola quindi così riusciamo a dare delle dipendenze tra il caricamento e diciamo che una volta che ho fatto set exams set dirty false potrebbe bastare no set dobbiamo ancora aggiustare una cosa però initial loading false eh quindi sicuramente dopo che ho caricato gli esami ho qualcosa da far vedere per cui posso tranquillamente eh sì posso tranquillamente far vedere tutto quanto ok cosa c'è che non va ah no niente ok siamo a posto ok quindi all'inizio quando carico viene fuori loading data si caricano i dati sparisce loading data ho messo il set initial loading false e quello sarà false veduto il resto dell'applicazione della durata della vita dell'applicazione ok questa è di nuovo è una possibilità e io vi sto facendo vedere delle possibilità poi voi andate a casa pacioccate provate a cambiarlo volete provare a usare il dirty come come variabile per il loading perché in realtà quando avete messo il dirty state caricando però bisogna un po' riragionare sull'interfaccia no perché una volta devo far vedere il loading all'inizio una volta coloro bisogna bisogna un po' ragionarci su ok ecco mi manca ancora un pezzo che è importante che volevo farvi vedere cioè io qui in questo momento ho due use effects indipendenti all'inizio carico i corsi all'inizio carico gli exam ok adesso nel nostro caso non ho un problema perché i corsi non li faccio vedere però se io avessi corsi da far vedere anche all'inizio quindi i codici corsi oltre alle liste degli esami vorrei assicurarmi che entrambi siano stati caricati prima di mettere il set initial loading false giusto quindi come faccio o riorganizzo tutto quanto faccio partire le chiamate separatamente faccio un promisole eccetera eccetera un sacco di diciamo complicazioni di questo tipo che si può anche fare però il codice duplicato che non mi piace tanto se riusciamo a trovare una soluzione gestendo bene le use effects che non duplichi il codice è meglio ok poi all'esame senza esagerare nel senso che non dovete fare tre o quattro variabili di stato una imposta all'altra eccetera perché poi a un certo punto non si capisce più niente però se la soluzione è abbastanza lineare possiamo provare a farlo con lo use effects se siete diciamo in crisi piuttosto aggiungete una use effect apposita che fa il caricamento iniziale in cui fate che so entrambe le chiamate o col promisole oppure await courses await exams e via ok la promisole ce la fa in parallelo va bene le altre sono sequenziali però almeno avete la garanzia che alla fine è tutto caricato ok allora come facciamo a far funzionare tutto il meccanismo allora qui avevamo messo così possiamo provare a mettere come dipendenza della seconda use effect il courses che è l'array però abbiamo detto mai l'array mai un oggetto quando avete un array se sapete che all'inizio è vuoto e poi viene caricato con qualcosa che non sia vuoto quindi non resta vuoto potete provare a usare per esempio la proprietà lunghezza come abbiamo suggerito nelle slide quindi possiamo provare a mettere courses courseis.length ok quindi non courses mai da solo courses mai oggetti courses.length e poi dire io il caricamento di all exams lo faccio solo se c'è il dirty e va bene ma anche se c'è courses.length diverso da zero ok in realtà se volete ci mettiamo diverso da zero ma in realtà è implicito no perché è come il C se è diverso da zero è vero ok e con questo semplice trucchetto ho aggiustato il meccanismo ok perché cosa succede all'inizio viene caricato courses all'inizio parte la callback della seconda use effect perché parte parte non ci possiamo fare niente react la fa partire quello che possiamo fare è decidere cosa ci scriviamo dentro ci mettiamo un if c'è courses.length zero non entriamo ok e in end non entriamo a un certo punto courses sarà riempito dalla set courses quindi avrà un array che non è più di lunghezza zero la use effect verrà richiamata perché courses.length è diverso da zero è cambiato rispetto a prima ok prima era zero adesso è un valore diverso allora parte allora c'è if courses.length è diverso da zero e mi va bene end dirty dirty inizialmente l'ho impostato true entro carico quando ho caricato ho fatto set initial loading false ok quindi ho trovato il modo di fare set initial loading false una volta che ho caricato tutto quello di cui avevo bisogno ok questo è un po' un hack è un trucchetto se vi confonde troppo le idee piuttosto pensatelo separatamente pensate a una use effect separata in cui mettete solo le quadre quindi il array vuoto come dipendenza parte una sola volta all'inizio quando ho fatto tutto che so con le await in una funzione async fate set loading false e via ok qui era per far vedere qualcosa di diverso ok domanda siamo agli sgoccioli sì le use effect vengono fatte in ordine è una domanda a cui non so rispondere presumo di sì ma non ci conterei secondo me se va nella documentazione in real c'è scritto non è garantito ok per cui per cui in ordine ma comunque non mi interessa se sono in ordine o no perché sono in parallelo perché il server può metterci di più a risponderle sul cursus che sull'exam quindi anche se fossero in ordine non mi basta questo ok altra domanda non siamo sicuri che abbia caricato tutti i corsi perché la lunghezza può aumentare ma non ha caricati tutti no perché la use la set courses la fa una sola volta quindi viene eseguita una volta che l'ha eseguita alla fine ha il set courses aggiornato ok e i corsi li ha già caricati tutti perché nel momento in cui è la promise risolta che arriva dall'api che ha parlato col server ha già caricato tutti i corsi esatto o è zero o è il numero totale di quello che ho caricato quel giro lì ok grazie interessante osservazione termino qui perché poi mi cacciano ci vediamo giovedì in laboratorio ok grazie dell'attenzione a presto grazie